Ogni partita ha una storia a sé, sapevamo benissimo con una squadra completamente rinnovata che c'era bisogno di tempo e ovviamente ci aspettavamo qualche punto in più, a Rende e in casa meritavamo 4 punti, quindi 2 punti per quelle partite le altre perse abbiamo meritato di perdere, come ad Avellino, quindi speravamo di avere almeno 8-9 punti, questo è vero Le analisi sono reali, complessive, quindi non ci nascondiamo, siamo qui proprio perché va fatta un'analisi seria e dobbiamo capire come intervenire immediatamente perché ormai hanno una condizione ottimale, quindi non c'è più l'alibi o il problema della condizione atletica anche Costa Ferrera ormai è in una condizione al 100%, quindi da sabato sera iniziamo a pretendere il massimo Noi abbiamo tutti i valori, sono monitorati continuamente ogni allenamento, voi vedete le casacchine che portano tutti i calciatori quindi tutti e 26 calciatori sono monitorati e la condizione fisica atletica è in questo momento già ottimale Ieri sera abbiamo vissuto una serata bella dopo la figuraccia di domenica il presidente ha voluto la squadra con lui, li ha invitati a cena dopo una batosta del genere è stato un gran signore, proprio per dimostrare alla squadra che lui è vicino e che comunque è un segnale importante di voler spronare, di richiamare l'attenzione perché non vuole più vedere quelle figuracce ma anche per capire come è possibile un blackout del genere e vi ripeto, da dirigente da tanti anni e da calciatore sono quelle situazioni dove è difficile avere una risposta da ragazzi come Arrigoni, da Tomei calciatori che hanno fatto piazze importanti, che hanno avuto anche delle pressioni, hanno vinto tanti campionati bombaggi, quindi non parliamo di ragazzini che non sanno come giustificare una prova negativa stiamo ballando i calciatori affermati con una grande esperienza che fanno fatica a giustificare prestazioni di questo tipo non è preoccupante, non è preoccupante perché tre giorni prima c'è stata una prestazione io mi sarei preoccupato in caso di più prestazioni negative nell'arco di un brevissimo tempo adesso sabato sera attendiamo una risposta importante perché vogliamo la reazione vogliamo riprendere dalla prestazione positiva di fatto in casa con è in parte fatto anche con la Cavese e anche Arrende, tranne che quel tiro subito ma con la Viterbese abbiamo visto una buona prestazione grazie Grazie.